ciao a tutti oggi vediamo una coppia di aln668 limma vicenza di cui una motrice e una folle vediamo che cosa succede nella digitalizzazione la cassa si svincola svitando le due viti allargandola e sollevandola le due lampadine che stiamo vedendo vanno sfilate per poi inserire una micro pcb con i led che vedremo in seguito dalle prese di corrente andrà eliminato l'ossido causato dalla pasta salda vedremo come l'ossido lo elimino utilizzando un solvente speciale ed ecco come si presentano le lamelle una volta pulite queste sono prese di corrente sussidiarie al carrello folle effettuate con filo d'acciaio armonico da 0,2 a bassissimo coefficiente di attrito una volta tolto il coperchio della cascata di ingranaggi sarà possibile pulire e sgrassare la vite senza fine e tutto il carrello le lamelle prendi corrente saranno oggetto di disossidazione e pulizia è importante lubrificare le bronzine della vite senza fine per evitare grippaggi utilizzando questo spray posso pulire completamente il carrello sgrassandolo completamente ed ecco come si presenta il carrello una volta pulito è giunto il momento ovviamente di lubrificare e ingrassare tutti gli organi meccanici in questo caso utilizzo un grasso al silicone ma è possibile anche usare grasso al teflon o al bisolfuro di molibdeno un nuovo cabalaggio fili nel rispetto della normativa nemm completerà il lavoro elettrico ed ora realizzo una mini pcb con i led bianchi e rossi al posto delle lampadine faccio passare tutti i fili dentro delle canaline appositamente posizionate per ottenere un certo ordine in queste immagini si può vedere come ho posizionato la mini pcb a 8 pin ho deciso quindi di posizionare il decoder esattamente sottotetto nel vedere come funzionano i fanali con le luci led sia bianche che rosse auguro buon proseguimento a tutti